Salve, parliamo di sicurezza stradale. Sicurezza stradale a Perugia e sicurezza stradale in Umbria. A Perugia gli incidenti mortali automobilistici sono triplicati nei primi nove mesi del 2024, con nove decessi e per un totale di 1.298 incidenti. La situazione si è fatta pesantissima, le cause sono molteplici. In una regione in cui tra il gennaio e agosto del 2024 registriamo la drammatica cifra di 39 decessi rispetto ai 45 del 2023 totale. Questo sta a significare che la questione della sicurezza stradale è tutt'oggi una delle principali cause di morte della nostra regione. Purtroppo a fronte di questo notiamo, tutti quanti noi cittadini, un disinteresse profondo da parte della politica e da parte delle istituzioni, a cominciare dalla giunta regionale dell'Umbria. La mia sensazione è che la legge regionale sulla sicurezza stradale è largamente disattesa e non applicata. Ma d'altra parte basta dare un'occhiata allo stato della viabilità e delle strade della nostra regione e di Perugia per capire quante problematiche sono in campo, quante questioni non sono affatto risolte. Quindi c'è un problema evidentissimo della segnaletica orizzontale e verticale, c'è il fatto che le strade in Umbria e a Perugia in particolare non sono attrezzate tecnologicamente per aiutare i pedoni, gli automobilisti, chi va in bicicletta, eccetera. Non c'è l'attrezzatura, non c'è la tecnologia moderna che aiuti uno svolgimento del traffico scorrevole e non pericoloso. Sono poche le zone a 30 km, siamo ancora lontani da un impiego dei derivati dalle infrazioni automobilistiche, cioè dalle multe, impiegati per la sicurezza stradale. Io credo che la politica e le istituzioni dovrebbero assumere la sicurezza stradale come una delle vere e proprie questioni irrisolte da affrontare con un passo lungo rispetto alla diffusione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole, nelle università e allo stesso tempo un intervento massiccio sulle strade per garantire una sicurezza a tutte e a tutti, nonché l'applicazione della legge regionale sulla sicurezza stradale ed eventualmente anche un miglioramento della legge stessa, attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che si occupano di sicurezza stradale sia a Perugia che nella nostra regione. Ecco, le consulte sulla sicurezza stradale vanno ripristinate, vanno valorizzate, vi va ridato un ruolo importante perché sono uno strumento che può essere molto utile per salvare le vite di tante cittadine e cittadini della nostra regione e della nostra città.